Dreamland si buongiorno siamo tutti e due magari intanto prova a condividere lo schermo Claudia può condividere lo schermo con la sua presentazione sono Franco Cambi Università di Siena e la segnista è Claudia Abbatino e il nostro progetto si chiamava Dreamland Discovering Roman Elba and Maritime Landscape un progetto che ha avuto naturalmente le difficoltà che tutti gli altri progetti hanno avuto per quel periodo iniziato con la pandemia e poi proseguita appunto in altro modo però siamo sempre riusciti a lavorare anche nell'estate del 2020 sia facendo molte operazioni sul sito archeologico della Villa Romana delle Grotte sia mantenendo un legame con i nostri principali interlocutori sul posto vale a dire le scuole le associazioni le imprese le istituzioni e via dicendo quindi diciamo che di questo progetto io sono molto soddisfatto spero che possa essere in qualche modo sviluppato anche dalle istituzioni locali principalmente il comune di Portoferraio e con questo lascio la parola a Claudia per il racconto del progetto grazie buongiorno a tutti io anche vorrei ringraziando unirmi al ringraziamento del professor Cambi è un piacere anche per noi un'occasione proprio essere qui per presentare i risultati di questo di questo lavoro di quanto è stato svolto e inizierei a questo punto subito anche dato il tempo che abbiamo a disposizione sintetizzando quella che è l'idea progettuale e gli obiettivi del progetto Dreamland innanzitutto partiamo dal dire che il sito che è stato oggetto di studio il complesso monumentale delle grotte è una delle testimonianze archeologiche di epoca romana tra le più importanti dell'isola d'elba e dal 2016 è un sito gestito dalla fondazione omonima che appunto partner del progetto e dal 2016 è iniziata una nuova gestione con a capo la presidente Cecilia Pacini che colgo anche l'occasione per ringraziarla per il suo lavoro la sua passione fondamentalmente proprio per il costante appoggio e supporto nei confronti di tutto il gruppo di ricerca. Dal 2016 inoltre tra i soci della fondazione è entrato anche il comune di Portoferraio. Il sito quindi delle grotte è un sito che era stato già indagato negli anni 60, erano stati eseguiti degli scavi archeologici da Giorgio Monaco il quale aveva ovviamente applicato delle metodologie di ricerca che non potevano più essere considerate come soddisfacenti ed esaustive ed inoltre anche un altro punto critico era la parziale visibilità dei resti e i pochi supporti a disposizione. Questo comprometteva notevolmente la comprensione e la fruizione del sito da parte dei visitatori. Dunque alla luce di queste oggettive criticità il progetto si è concentrato su un riesame storico archeologico globale del complesso e del suo contesto, sullo sviluppo dei social media che tra l'altro si sono rivelati indispensabili soprattutto date le circostanze in cui parte del progetto è stato realizzato, ovviamente mi riferisco in particolare all'emergenza pandemica che abbiamo vissuto e quindi oltre allo sviluppo di social media anche sull'incremento delle attività didattiche. Un altro punto è la valorizzazione del complesso monumentale attraverso moderni supporti tecnologici che in qualche modo assistano la visita, ovvero la realizzazione di un'esperienza virtuale con ricostruzioni virtuali di alcune parti dell'edificio e anche dell'ambiente circostante, dell'ambiente in cui si inserisce l'edificio, in maniera tale da offrire quindi ai visitatori un percorso da ritenersi appunto immersivo e multisensoriale e favorendo in questo modo una maggiore partecipazione e interazione. Infine tra gli obiettivi del progetto vi era l'ampliamento delle aree percorribili. Queste sono solo alcune delle immagini che mostrano come il sito si presentava fino al 2016 e qui invece si vede come gli sforzi profusi da parte della nuova gestione e la solida collaborazione anche con il gruppo di ricerca dell'Università di Siena abbiano garantito un importante impegno proprio nell'ambito della gestione e della manutenzione stessa. Infatti le varie operazioni di sistemazione annuali del sito venivano di volta in volta concordate ed eseguite anche congiuntamente ed hanno portato quindi ad ampliare notevolmente le aree visitabili. Come avevo già accennato uno degli obiettivi del progetto era la ripresa delle indagini archeologiche e quindi a positiva vi è infatti una foto d'archivio di una delle campagne di scavo dirette da Giorgio Monaco che scavo appunto il sito tra gli anni 60 e gli anni 70 del secolo scorso. In questo caso lo scavo quindi fu impostato in modo tradizionale come semplicemente una suddivisione di ambienti come sterro diviso per ambienti che veniva numerati ogni volta che se ne individuava poi il perimetro. Nel corso invece delle campagne di scavo archeologico che sono state condotte nell'autunno 2020, autunno 2021 e maggio 2022 sono stati raccolti importanti nuovi dati che consentono anche di riscrivere la storia proprio dell'imponente edificio, qui vedete appunto nei diversi colori le zone che sono state oggetto di studio nei diversi anni. In accordo anche con la fondazione sono stati eseguiti alcuni interventi di restauro conservativo sulle strutture e in ambienti che non erano più visitabili o non erano in sicurezza, quindi questo con l'obiettivo ovviamente finale di estendere come dicevo le aree percorribili e di ripensare completamente degli specifici percorsi di visita, in maniera tale da permettere di entrare anche fisicamente proprio all'interno dell'area archeologica senza compromettere la conservazione delle strutture. In particolare a causa appunto delle particolari condizioni legate alla pandemia, come diceva appunto il professor Cambi, siamo stati in grado comunque di fare, di eseguire delle attività nell'autunno del 2020 che si sono concentrate prevalentemente nella zona del quartiere termale. Non voglio entrare adesso nel dettaglio dei risultati prettamente archeologici però mi interessava sottolineare il fatto che durante questa campagna è stato rinvenuto anche un pavimento decorato a mosaico, stiamo parlando quindi nell'autunno 2020 e già a fine agosto 2021 era stato avviato il cantiere di restauro del mosaico ed il consolidamento anche delle sostensure del calidario, tornando ad essere già nuovamente visibili e visitabili dall'autunno del 2021. Poi tra le attività anche di ricerca sul campo oltre alle tre campagne di scavo archeologico sono state eseguite un'attività di documentazione e rilievo, è stata in particolare avviata una collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze e questa collaborazione ha consentito ovviamente un dialogo interdisciplinare volto proprio alla valorizzazione complessiva dell'edificio. L'attività svolta che ha visto quindi la redazione della planimetria aggiornata e delle strutture anche in elevato attraverso il rilievo digitale è stata diciamo diretta a mantenere proprio l'integrità e l'identità del sito archeologico ma anche soprattutto a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione del sito. Oltre quindi alle attività di ricerca sono stati organizzati diversi eventi culturali, attività didattiche e quindi di terza missione. Quando le restrizioni appunto messi in atto per contrastare la diffusione del covid non hanno consentito un lavoro diretto diciamo un lavoro sul campo si è fatto particolarmente uso di alternative strategie di comunicazione per raggiungere gli utenti e promuovere le attività che venivano svolte. Sono stati quindi realizzati dei brevi video divulgativi che sono stati poi di volta in volta condivisi sui sui canali social. Poi ovviamente una volta superato il momento di massima criticità riguardo l'emergenza epidemiologica è stato programmato e realizzato un calendario sia per l'anno 2021 che per l'anno 2022 è stato realizzato un fitto calendario di eventi con l'intento diciamo di coinvolgere tutta la comunità locale e non solo. È stata anche riconfermata per entrambi gli anni l'adesione alle notti dell'archeologia che tra l'altro ha visto un numero sempre crescente di partecipanti agli eventi e sono stati anche realizzati dei laboratori didattici che sono stati proprio proposti alle scuole primarie dell'Isola d'Elba e abbiamo avuto un ottimo riscontro. Ovviamente questi laboratori oltre a far scoprire alcuni aspetti riguardanti il mondo degli antichi romani hanno avuto come obiettivo anche quello proprio di stimolare la creatività dei bambini che anche loro venivano fuori da un momento particolarmente difficile. La fondazione inoltre è entrata a far parte del sistema museale del comune di Portoferraio e del sistema museale dell'arcipelago toscano, lo SMART. E sin proprio dai primi mesi del 2022 si è lavorato in sinergia con lo SMART che è appunto questo strumento di cooperazione inteso proprio a favorire la valorizzazione del patrimonio culturale dell'arcipelago toscano. Inoltre anche grazie al calendario congiunto della fondazione Villa Romana delle Grotte con il Parco Nazionale dell'arcipelago toscano alcune guide parco sono state eseguite e formate in maniera tale da poter offrire una visita aggiornata del sito e abbiamo riscontrato che il numero di adesioni e l'interesse è cresciuto esponenzialmente nel corso dei due anni di attività vedendoci giungere prenotazioni, richieste di informazioni soprattutto la presenza di bambini e famiglie sia turistiche che residenti sino a raggiungere per l'anno 2022 un incremento del più 128% di ingressi rispetto all'anno precedente. Oltre a questi eventi il sito è stato anche protagonista di diverse iniziative culturali come la prima edizione di un festival della poesia dalla connotazione internazionale si chiama il nome di Elba Poetry Festival e anche il festival Elba Isola Musicale d'Europa che anche questa è una manifestazione internazionale d'eccellenza ed inoltre è stato inaugurato anche il Baby Pit Stop che è stato patrocinato dall'Unicef. Ovviamente si sono anche susseguite diverse occasioni e conferenze in cui è stato possibile divulgare i risultati della ricerca. Per comunicare invece e condividere con i visitatori tali risultati... Come? No, a pochi minuti la invitavo... Ok, ok, ok. Per far vedere la parte più innovativa del progetto. Sì, 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 quindi per comunicare anche e condividere voi con i visitatori quelli che sono i risultati è stata realizzata anche un'audioguida attraverso l'utilizzo appunto della piattaforma Easy Travel per rendere anche più efficace la comunicazione e il racconto del sito è stata scelta una tecnica particolare di storytelling in grado proprio di provocare nel sito anche un reale coinvolgimento. Questo strumento ha permesso di raggiungere un maggiore numero di utenti ed ha consentito anche di far scoprire e conoscere il parco anche i visitatori sul web in maniera tale da stimolare la loro curiosità e il loro interesse per poi anche venire in loco in un secondo momento. E tra l'altro l'audioguida è stata realizzata in tre lingue italiano, inglese e tedesco e come potete vedere questi sono solo alcuni dei commenti e ha riscontrato anche un sincero apprezzamento da parte dei visitatori. Infine è stata avviata anche una collaborazione con i ricercatori dell'area virtual, augmented reality e multimedia della divisione di New Technologies and Design del CETMA e il centro di ricerca europeo di tecnologie design e materiali. E questa collaborazione è stata finalizzata alla realizzazione del nuovo percorso di visita con la nuova pannellistica che appunto si avvale di nuove tecnologie, di moderne tecnologie come la virtual reality e l'augmented reality. sono stati progettati nuovi pannelli didattici che comprendono quindi dei QR code questi consentiranno inquadrandoli con il proprio smartphone o tablet di accedere a ricostruzioni in realtà virtuale e realtà aumentate ed anche da approfondimenti. Sarà anche a breve disponibile un'app mobile sia in italiano che in inglese è facile come vedete anche dallo schema ed intuitiva con diverse funzioni con l'identificazione quindi in mappa dei percorsi, della propria posizione e dei punti poi quindi i punti di interesse. Qui appunto vedete anche se il visitatore non fosse interessato proprio all'ascolto dell'aeroguida potrà anche solo inquadrare i QR code che sono posti nei luoghi di interesse e potrà visualizzare sul proprio dispositivo le ricostruzioni virtuali e le schede descrittive. Quindi il progetto possiamo dire che ha potenziato sicuramente la sinergia tra le istituzioni pubbliche ed i privati ed ha mirato anche ad una spiccata valorizzazione partecipativa. Quello che però resta auspicabile è innanzitutto la nascita di un parco pubblico integrato al parco archeologico in modo tale che quest'ultimo possa diventare proprio uno spazio inclusivo, uno spazio che venga restituito alla collettività e la creazione anche di uno spazio adibito a bookshop gestito da personale formato e detto all'accoglienza e infine è auspicabile la continuità nella realizzazione di progetti appunto culturali più ampi che coinvolgano enti territoriali, associazioni culturali e ambientaliste del territorio, istituti di ricerca e organi proposte alla tutela. Vi ringrazio e ringrazio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.